Sono partiti con Ginevra, Warmore of Goldie invece verso lo steccato esterno, quindi quello delle tribune, Totò, con Totò che rimedia una partenza non brillantissima per isolarsi nel più facile e completo dei modi. Totò che sta vincendo facilmente su Freccia, quindi Totò facilmente all'epilogo vince nettamente su Freccia, Giasone e poi Ginevra e Awar Gort Moar Goldie, facile affermazione di Totò per Alessandro Pierdomenico, questo pony va veramente forte e vince la prima corsa della giornata. La tredicesima tappa del campionato italiano corse pony, quindi vittoria per Totò, numero 6 dello schieramento, secondo il numero 1 Freccia, terzo il numero 2 Giasone. Ecco il frontale che ci fa vedere la galoppata di Totò, assegno per questa prima corsa, riservate i pony, è tutto dalla postazione centrale.